Devo presentare... Ci sono persone che chiedono dei quadri... Sì, Milena... Milena, devo presentare dalla parte della tira. Allora, la vicepresidenta, che non la rupo adesso, le darò la parola, e poi le darò la parola a Milena Vedrata, che è presidente delegata della Regione Campania. Non lo vedevi qua. No, va bene, per un attimo... Mi piace fare il frutto delle cose. Allora, noi siamo stati invitati... Io e l'artista flore, che è rappresentante anche... se è segretaria della scuola, è molto bello, ma... Sì, sì... Allora, sono stata invitata qui dalla signora... la ricca Angela Lettiveri, per una mostra su Frida Cato, di cui c'è quella rappresentante. Poi, ci sta il quadro sulla pace, se lo vedete là... Non so, girate un attimo... Ecco, il quadro sulla pace, come vedete? Perché questa è una manifestazione sulla pace. Non ci dimentichiamo, eh... Sta da parte della pace, per cercare l'unione. Tutte queste associazioni, che noi cerchiamo di vivere, devono rafforzare quella centrale di DILA, perché DILA sta in tutto il mondo. Ci ha le rappresentanze in tutto il mondo. Giù da qui, qui, Anzio Rosanni, che è il nostro ambasciatore per il LIMBADO. Dov'è? L'ambasciatore del LIMBADO, chi è? E' che è proprio qui. Eh, ce la faccio assolutamente... Eh, allora, i miei quadri... li avete visti Raffinatato? No. Mi conteste, sì o no? Cioè, dove sono... Sapete chi è Raffinatato? Sì, io sono la donna... Sapete questo? Sì, è la donna... E' la donna... E' la donna... E' da sola, eh? Poi, su cui riguarda Sofialogli, io ho fatto già una mostra qua. Lei vi dà la dedica proprio a Sofialogli, con c'è la pappella di Sofialogli in quest'anno. Sermoneta l'ha dedicata a Sofialogli, perché Sofialogli ha girato un film, ma Sermoneta tutto la ciociara, ecco. che fanno un solido qua da Sofialogli, se non ho trovato un film, no? Eh, perché? Ci sono fatto un sciato. Che... E... E... Eh, ma perché? Eh, va bene. C'è stata nella gallina? No, ma io ho fatto quella della stagione, che è quasi così, ho visto! E mi hanno fatto un sciato! E va bene. E poi c'è un Merlin 1, perché l'internazionale, la nostra Branding Room, poi c'è stato Toh, avete visto tutto? Come l'ho interpretato? Così, anche. Una parte, perché io ho fatto molti artisti, anche anni di anni, l'ho interpretato, e via. E poi sono presidente di un premio internazionale, a tempo da 24 anni di premio internazionale, quest'anno, eh, che... gemellato con New York, questo premio importante, con Mario Franzi di New York, che è un grande, comediocraco internazionale, eh, che ha fatto, per gli 8 e mezzo, a New York, come commetta, che si chiama Nine, Nine, per gli 9 e mezzo, Nine, nove. E' stata interpretata, per tante, fatta per tanti anni, pro-duerlanda, pro-we, da Antonio Banderas, e tanti altri artisti, importanti in New York, e americani nel mondo. E questo premio, è a 360 gradi, eh, a 360 gradi, e della cultura, profondità, arte, sport, cinema, teatro, e viene fatto, come devo dire, gemellato con New York. quest'anno, se volete venire, il premio ci sarà, al, al, al museo della terra rotina, qui alla rotina, al museo della terra rotina, al museo della terra rotina, sarà premiato, anche la nostra messicana, per il progetto Vida Carta. Progetto Vida Carta, buona sera. grazie a tutti.